Pronti, monored godrick, vediamo. Let's see, let's see, let's see, let's see, maaron. Visto? Serve Mirrix. Babdeg. Certo che se pesco una terra diversa sono già poca, eh? Come ho tappato? Eh vabbè, allora mi tocca fare così, porco. Sì, mi piace. Ottima curva. Pesco un'altra terra, faccio godrick, art elemental e poi questo sta due. Così Cliff smette di rompere il cazzo e capisce che questa carta è forte, porco Dio. E capisce di essere un giocatore di magic e non capisce un cazzo. Ma ha detto sì, eh? Tra amici. Ecco. Intanto schiaffi. Nooo. Eccoci. Ecco, quante volte succederà questa cosa? Se non avessi avuto il Mirrix io già potevo farlo, eh. Ne ha un altro, veramente. Vinta. OP. Altro che godrick. L'art elemental è fortissimo. Eh, vedi? Muto, muto. Ce l'avevo in mano. Win rate alzata. Easy. Win rate due punti alzata. Grande Adele, è fortissima Adele. Roman e Adele, ragazzi. È identica. L'hanno fatto uguale. Uh, mamma. Che fregna, eh. Molto esmeraldica come... Come artwork. Uh, 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 uh. Momento godrick di terzo che diventa drago automaticamente occumano. Dai, 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 dai. È molto gypsy. Sì, esatto. Cioè... Lo stile gypsy. Ah, questa è la versione... Beh, feldone, no? Feldone 3-3 mi sembra... Good card of Magic the Gathering. Un altro mazzo che voglio provare è June Dunville. Il 5. Godrick. Culo. Beh, la tocca. Che c... Bimbi, io rimango della mia idea. A me mi fanno cacare le mie land tappate. Sarò scemo. Oh, bevac. Ah, comunque... Costa 1. Mamma mia. Ma... Poverde il gioco altrove. Fuori dallo standard. Fuori dallo standard. È fuori di testa. È fuori... È fuori di testa. È fuori... Di cervello. Entra... Sono me è... È da Pioneer... Molto... È molto forte. Eh, si giocava a Roast in Pioneer per spaccarci older. Ed ora che cazzo ti serve? Ok, quindi che è in Pia... In Pia costa sempre uno coi Totteri. Sempre. Fisso sempre uno. Beh, fortissimo. Fortissimo. Oh, grande Nassifone. Forse Godwake First Duel non fa la top... La top. Allora non sono l'unico che lo legge il Yellow What. Lo so che è Yellow Hat. Però io l'ho sempre... Cioè, il mio cervello non ce la fa a smettere di leggerlo Yellow What. Oh, c'è dell'aggro in Danimarca. Mi piace. Mi sa che c'ha la Otter anche lui. Eh, sì. Secondo me c'ha... È Otter. C'ha la Otter 1-1 Prowess. Un Believer. Vabbè, ragazzi, Nassif... Nassif è uno di quelli che sa fare degli Hatches. Si diverte. Alzo. Umano Charming. C'ha umana. Rimbalzino o peschino? Ma sicuramente non ho bisogno di una Terra. Beh, show rappo. Non me l'aspettappo. Ammepo. Ammepo che show rappo non me l'aspettappo. Good. Good. Mi potrebbe averlo di nuovo, eh. No. Non ce l'ha di nuovo. No. Ok. Eh, la 2-2... Il droppino è molto forte. Poi puoi fare un sacco di cose diverse dall'improvviso. Kodzky. Ok. A boltone. Oh, boltone. Tipo canale da considerare. Oh, ce n'è tanti. Oh, break in Italy. È classico. Oh, raga. Veramente. Una grandissima fonte di informazioni è il Cerbero. Non sto scherzando. Ne parlano goliardicamente, ma se succede una cosa nel mondo, loro la fanno in live. Ne parlano in live. Ho più informazioni di attualità col Cerbero che col studio aperto. È il Tarchirone, guardalo. È finito. Questo è molto male. Oppo Monored vecchio. Fuck carte nuove. Scusami. Fuck your disciplina. Show you paletta. I disappear. Santa Maria. Gun del Eros. We do the patto di sangue. O poi in free-to-play, come io con i Goblin l'altra volta. Oh, oh. Oh, 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 oh. De. Sarebbe male. Ok. È comunque uno showcase del mazzo. Ok. Ma Monored era forte. Tale, rimane. Vabbè, questa è persa perché lui ha mirorato più di me. Allora, lui ancora gioca Tarchir. Io non so cosa togliere o mettere per Tarchir. O tolgo l'Hert Elemental, però ancora non l'ho usato. Non posso capire se è meglio o peggio. Devo usarlo. Devo giocarlo. Devo capire il valore finale di una partita. Come funziona. Devo giocare una carta. Forse via Feldone e Canepifone è molto forte, Feldon. Comunque fa un sacco di valore anche lui. Potrebbe diventare un 1x. Feldon potrebbe scendere a 1, effettivamente. Belli siete. No, 4 è proprio contro l'idea della carta. Perché l'Hert Elemental è pensato che tu lo peschi quando hai finito la mano. Gira l'anello, gira l'anello. Guarda è bello che l'anello è proprio bello. Io ci metto anche quello. Il mio pisello. Viva l'anello, viva l'anello. Eh no. Godric c'ha... C'ha forse troppo E? Non mi dire che Azorius let it go, eh. È Azorius let it go che cago i 4-4. Scendo la regina, ti tappo la testa. Ti inculo coi 4-4. Bello. Questo fa schifo comunque sempre, bro. La combo! È traco! È traco, dottori! È traco! Bello sei, madonna. È forte lui. Forte, monored, boros, naia. Dove lo vuoi mettere lo mette. È forte, bimbi. Come fa? Cioè, che bomba è? 3 mana 4-4 rapido volante, dai. Dai, fai, fai Elsa. Abbiamo il nostro nuovo re. Abbiamo la nostra carta preferita di Magic, boys. Fai, 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 fai. Fai, 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 fai. Fai, 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 fai. Ma che cazzo se ne pega? Chat spam... Ragazzi, è Blur, è Blur. Qualcuno faccia la photoshopata di lui con la faccia di Blur, perché è il king, ragazzi. È il king. E niente da fare, è il king, signori. Pistola del GG. Eh, basta. Cioè, un solo re nello standard adesso. Mi dispiace. Ma una red è già tier, ragazzi. Gli lo dico. Lo era già in standard. Ha solo preso cose migliori. Oh, te, 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 te. Non ho detto puppe, 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 puppe. Intendo tu. È una curva di Magic the Gathering. Rosabile il trick a 1 rosso. No. Perché? Ho già per il Collector. Non mi è ancora arrivato. Non mi è ancora arrivato. E del pacco della Wizards non so niente. Forse ora mando una mailina, reminder. No, mando una mail per chiedere il tracking. Allora. Capiamoci. Minghia. Minghia. Ci dobbiamo capire, guà, che lo squalo deve morire. Deve morire morto, lo squalo. Mando una mailettina a Wizards. Sì, va, va. Godricco. Non attacco. Is it possible to have a tracking code number for the wild? I'm receiving thanks a lot, virgola. E poi c'ho già la firma con scritto Delmo. Non è cringe. Non mi interessa. È la mia identità. Allora. Ma se io tiro strike viso... Anzi. Sono più danni. Se io faccio strike squalo e poi art elemental e giro tutto... In realtà sono danni guadagnati, non persi. Ok. 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 Anvil Cosa? Squalo Anvil Nemmeno quando si poteva l'ho visto Figurati ora che l'espansione è nuova Che questo sta scoprendo cose nuove di un'espansione vecchia Geniale Letteralmente mio padre Intanto ho 4-5 Oppo sta facendo le l'access di Dimash of the Machine Ciao Tullio Ah no aspetta Carta nuova Zitti fermi Questa è mono red Attenzione ho pescato il nulla Ok Ah Beh cliff mi sembra che sia l'unica cosa che può attaccare in questo momento Mh 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 Questa Nella chat di Twitch Lo streamer bullizzi la chat Ok è un grande mazzo questo è strabello Però è vecchio Cioè nel senso perché questa cosa Non l'hai fatta prima Perché la stai testando adesso e non in ladder Perché ha l'early access e non su arena E quello non lo sto capendo Bello Figata Però ha sbagliato posto Boh Godo Quanto è bello Che artwork fuori di testa è La voglio come snap Perché ho detto snap Perché ho nominato snap Però voglio giocare a snap Snappino con la mano Mentre si gioca a magic Spi spear Pio 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 essere creatura o battle dio cristo perché non fanno le cose aggiornate alle espansioni di un anno fa decente è buono questa è una gran carta ragazzi ha pescato 3 è letteralmente pesca 3 è cioè te la devi vedere pesca 3 non è pesca 2 e fa pesca 3 scartamano pesca 3 ok è bello non è vedere sotto ed è grosso in culo ok anche questo è grosso eh tra ben poco esplode cosa il bro legge male le figurine mi sa questa carta è molto buona nonostante non costi molti soldi bello due list non in ecco non devi overestendere nel giocare le avventure in questo mazzo perché quelle di merda dovresti evitare secondo me secondo me ti bastano poche cose posso? questa è brutta forte eh tre mana tre danni è ingiocabile ragazzi ora vince per il lifelink 100% cheeky mouse è imprescindibile stai uccidendo stai uccidendo stai uccidendo stai uccidendo stai uccidendo non dovevi attaccare sei a 3 allora il druido io l'ho messo al sesto posto sta salendo vi dico cazzo era per mandarti ad uno e ora boom morti probabile no morti no dai sei dodici tredici bro are you seriously giving me delle cose? eh rocco pia ragazzi ci ho provato anch'io poi ho fatto vincere troppe volte gli ho madonna puttana dio che se non trovo un danno in tre carte eh no 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 bocco se fange il fire ignition maffio ti vengo a cercare a casa e ti do un caloroso abbraccio ok intanto lui la carria la carriata che permette di non attaccare questa roba di merda bimbi la carriert elemental intanto vediamo se è morto è morto dd 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 bravo c'è un solo king bro è un solo king il king il nuovo re il nuovo re dello standard dottori il nuovo re dello standard il king incontrastabile e incontrastato chat spam corone chat spam crown per il king chi è il king chi è il king dello standard chi è chi è il king non lo metto più in alto nella top 10 solo perchè non può essere mai multiformato ma minchia king lui promosso anche questa carta è fuori di testa lui promosso promosso dov'è cliff che cacava il cazzo lui ci sta di cristo in questo mazzo di cristo più bello 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 però il king il king beh mi commuove mi commuove king re del mono rosso re del mono rosso bellissimo stupendo troppo bello ti amo in culami in culami